Siamo arrivati alla terza edizione di Rosso ma non troppo, Festa del Pomodoro a Pera d'Abruzzo. Questa è una manifestazione che è nata da volontà del Comune di Francavilla al Mare di promuovere una delle eccellenze del nostro territorio che è proprio il Pomodoro a Pera. Però rientra in un progetto molto più ampio che è quello nato col progetto Orto Amico che intende promuovere e valorizzare le tantissime aziende agricole di Francavilla che con questo evento per loro rappresenta un'ottima vetrina per portare il Pomodoro a Pera che sicuramente è uno dei prodotti della tradizione storica francavillese ma abruzzese tutta e anche per promuovere tutte le altre eccellenze del territorio. È nato questo progetto grazie a una collaborazione, a un sodalizio che ogni anno si rafforza sempre di più tra Slow Food di Francavilla al Mare, quindi la contotta presieduta da Roberto Angelucci e il consorzio del Pomodoro a Pera d'Abruzzo presieduto dal dottor Luciano Camerano che è il ringrazio di questa preziosa collaborazione.